Buongiorno di nuovo da Telefriuli, bentrovati a questo appuntamento con a voi la linea. I nostri approfondimenti e i collegamenti in diretta cominciano da Udine, in particolare dalla sede di Confindustria perché oggi è una giornata importante per la vertenza Safilo relativamente alla chiusura dello stabilimento di Martignacco. Se ne parla appunto in un incontro con i sindacati e anche con la proprietà che deve presentare l'advisor. Ci aggiorna allora in diretta Paola Treppo dalla quale vado subito. Buongiorno Paola. Sì buongiorno Francesca, buongiorno ai nostri telespettatori, hai già annunciato la nostra posizione, siamo all'esterno del Palazzo di Confindustria Udine. Qui alle 10 di questa mattina sono entrati i sindacalisti che stanno seguendo la vertenza Safilo. Safilo, Martignacco, lo stabilimento lo sappiamo, l'abbiamo già annunciato, purtroppo chiuderà ma potrebbero esserci dei margini per riuscire a portare avanti la produzione. Questo è il tema fondamentale dell'incontro che si sta svolgendo dalle 10 qui in Confindustria. Ci sono i sindacalisti di CGL, Cisle, Wille, RSU aziendali, i referenti di Confindustria, anche la proprietà del gruppo Safilo, in particolare l'ufficio del personale, i referenti che stanno seguendo la vicenda. Ormai dagli ultimi due mesi ricordiamo che l'annuncio della chiusura è stato fatto prima delle feste di Natale, dopo di che si sono susseguiti diversi vertici, due dei quali sono stati fatti anche a Roma al Ministero per lo sviluppo. Perché? Perché l'avvertenza appunto non è solamente legata al sito di Martignacco che naturalmente in Friuli è l'unico del gruppo dopo la chiusura di quello di Precenicco. Qual è l'obiettivo dell'incontro? Quello di riuscire a capire attraverso la figura dell'advisor chi è l'advisor, spieghiamolo anche per chi può non capirlo. È un consulente che viene individuato dal gruppo Safilo, quindi dalla stessa azienda che ha deciso di chiudere Martignacco, per cercare di fare un tentativo, fare un sondaggio sul mercato, verificare se ci sono le possibilità da parte di qualche imprenditore di rilevare questo stabilimento di finissaggio. Ricordiamo, da lavoro a 250 persone, era stato già oggetto di un importante taglio una decina di anni fa e quindi aveva già dato tantissimo, era stato chiuso anche Precenicco. Quindi l'advisor ha il compito di verificare se sul mercato c'è un soggetto interessato a rilevare lo stabilimento di finissaggio. Finissaggio cosa vuol dire? Gli occhiali arrivano a Martignacco da sistemare e quindi quando escono dallo stabilimento di Martignacco, dove il personale è formato in maniera professionale per questo tipo di compito, possono essere immessi sul mercato. La crisi che porta a questa chiusura di stabilimento e anche a un taglio significativo dello stabilimento di Longarone, a una parte di personale della sede centrale che si trova a Padova è legato anche al fatto che non sono state rinnovate delle licenze importanti degli occhiali e quindi insomma c'è la necessità da parte dell'azienda di eseguire questo importante ridimensionamento. Ecco, c'è la possibilità, si sta cercando insomma tutti i modi di non chiudere Martignacco, perché le persone sono tante, Martignacco e il Friuli hanno già dato tantissimo, i sindacati hanno chiesto un contratto di solidarietà, non è stato accolto. La casa integrazione al momento è l'unico strumento che si può utilizzare per queste persone. Casa integrazione straordinaria per un anno che sarà concessa in deroga dopo un incontro che si terrà a Roma, perché quello di oggi non è l'ultimo incontro naturalmente che riguarda questa avvertenza. Sarà una casa integrazione straordinaria, probabilmente a ore zero, perché lo stabilimento da quello che sappiamo fino a oggi terrà aperto fino a giugno. C'era la possibilità che chiudesse addirittura a gennaio, poi attraverso varie trattative che hanno visto scendere in campo anche parlamentari, insomma l'assessorato regionale all'attività produttiva. Importante è stata veramente la collaborazione di tutti, anche dei sindaci, dell'amministrazione di Martignacco, che si è recata addirittura con una corriera a Roma, con un presidio. I lavoratori hanno manifestato all'esterno della sede del Ministero per chiedere lavoro, per dire di no alla chiusura di uno stabilimento, di un'azienda veneta che chiude in Friuli. Non è la prima volta, purtroppo, che si verifica che chi ha poli produttivi in Friuli e sedi, invece fuori regione, decida di tagliare in Friuli Venezia Giulia. È successo già altre volte. L'incontro di oggi vede protagonisti, come abbiamo detto, i sindacalisti, quindi il sindacato di Cigelle, Cisleguile, le RSU. In una pausa di poco fa, di circa un'oretta fa, i sindacalisti sono usciti un attimo, attendevano l'arrivo dell'advisor e ci hanno detto che sarà un incontro che durerà molto, quindi si andrà a oltranza, probabilmente diverse ore. Potrebbe essere che il Vertice impegni tutti quanti i protagonisti per l'intera giornata, o comunque fino al primo pomeriggio. La speranza, come si diceva, è quella di riuscire a salvare lo stabilimento di Martignacco. Che cosa fu fatto allora? Quando Martignacco venne penalizzato, ci furono 500 tagli, il personale venne riqualificato. È possibile che anche in questo caso, nel momento della chiusura, ci sia un percorso di riqualificazione da aviare attraverso anche gli uffici del lavoro per dare la possibilità a queste donne che si occupano delle fini saggio di trovare una nuova occupazione. Purtroppo si tratta di persone che sono monoreddito, quindi persone donne che vivono solo, hanno anche dei bambini, insomma figli che crescono da sole. Poi ci sono anche delle famiglie, quindi marito e moglie, che sono impiegate nello stesso stabilimento. Quindi insomma due stipendi che se ne vanno in un colpo solo, non è una situazione semplice. Si era ventilato all'inizio anche di poter fare delle manifestazioni di protesta, di sensibilizzazione occupando magari la strada statale, la via nazionale, oppure di creare un sit-in, di organizzare insomma delle azioni di sensibilizzazione, volantinaggi, insomma qualcosa per poter attirare l'attenzione e di evitare la chiusura insomma di questo polo di finissaggio. La trattativa viene trattata, viene gestita a livello romano perché la sede di Safilo, del gruppo Safilo, si trova a Padova. Quindi gli stabilimenti ricadono sia in Friuli Venezia Giulia per Martignaco che nella sede, nella zona appunto del Veneto. L'Ongarone, Santa Maria di Sala e Padova sono i tre poli fondamentali per la produzione di questi occhiali. Quindi tutte quante le decisioni devono essere prese dalle organizzazioni sindacali, venete, locali, regionali e anche naturalmente dalle regioni, quindi dai vertici regionali del Friuli Venezia Giulia del Veneto, oltre che naturalmente dagli esperti e dai tecnici del Ministero, la presenza anche, come dicevo prima, importante dei parlamentari del Friuli Venezia Giulia. Per adesso è tutto, noi rimarremo qui fuori e Francesca in attesa dell'uscita dei sindacalisti, vi aggiorneremo più tardi su questo importante incontro. Qui da Udine, da Palazzo Torriani, ti restituisco la linea, a voi la linea. Grazie a Paola Treppo, la linea la giriamo subito a Isabella Gregorato, che si trova sempre a Udine, ma all'esterno della sede della Fondazione Friuli, dove questa mattina si è parlato del patentino per l'utilizzo dello smartphone. È stato proprio presentato oggi, ora scopriamo di che cosa si tratta e perché. È presentato proprio oggi con Isabella Gregorato. Buongiorno, a te la linea. Buongiorno Francesca, buongiorno ai nostri amici telespettatori. È già anticipato tu, mi trovo qui in Via Manin, davanti alla sede della Fondazione Friuli, dove si è appena concluso la presentazione appunto del patentino, patentino per l'uso dello smartphone. Un'iniziativa che si inserisce nel progetto Cittadinanza Digitale a Scuola, che è realizzato praticamente dall'Associazione MEC con il sostegno della Fondazione Friuli e la collaborazione della Regione. Intanto cominciamo con il presidente della Fondazione Friuli, Giuseppe Morandini. È importante questo progetto sotto vari punti di vista, anche perché avvicina in un certo qual modo i genitori, agli insegnanti, agli studenti. Praticamente si chiude a un cerchio. E soprattutto spinge a recuperare quel dialogo con i propri figli, con i nostri figli, che magari a volte, visti i ritmi che la quotidianità ci impone, un po' trascuriamo. Questo è un progetto che stiamo portando avanti da tre anni con MEC, grazie alla collaborazione fondamentale della Regione. La presentazione del patentino è un traguardo intermedio di un progetto più ampio, che è teso a indicare quelle che sono le strade per i giovani, per riuscire a estrarre solamente utilità e positività dagli strumenti digitali. E con un'iniziativa la quale Fondazione Friuli aderisce già da tempo, non è la prima edizione questa? Il rapporto con la scuola a tutti i livelli, quello che a me piace chiamare il filone formativo, dai comprensivi fino all'università, è un rapporto che ci impegna molto e cerchiamo di interpretarlo sempre con gli occhi rivolti al futuro e cercando di essere portatori di innovazione e di cose nuove. Ecco, con noi c'è anche Katie Segatti, che è vice direttore appunto della Direzione Centrale del Lavoro, Formazione, Istruzione e Famiglia della Regione. Lei ha parlato di benessere, benessere per quanto riguarda gli studenti, perché la Regione si sta adoperando per combattere il cyberbullismo, ha attivato anche uno sportello dedicato. Sì, il nostro punto di vista è il cyberbullismo, va visto in termini di cyberbenessere. Dicevo prima che condividiamo degli obiettivi educativi per i ragazzi, per i giovani, e gli obiettivi educativi sono quelli di favorire, accrescere la consapevolezza per un uso corretto del web, avere una capacità di gestire le proprie emozioni e quindi anche evitare delle tensioni relazionali e la capacità di sviluppare dei rapporti, delle relazioni tra i giovani. Sono tre aspetti molto importanti che ovviamente impattano su questo fenomeno. Ma che cos'è questo patentino che tra l'altro, lo ricordiamo, viene presentato nella giornata internazionale appunto del Safer Internet Day 2020? Ne parliamo con Giacomo Trevisan che appunto è coordinatore dei progetti dell'Associazione Media Educazione Comunità.mec. Cos'è questo patentino e in che cosa consiste? È un'iniziativa che ha come obiettivo quello di cominciare a misurare e valutare le competenze che i ragazzi acquisiscono sull'uso degli strumenti digitali. Noi partiamo da un lavoro didattico di anni che è fatto da molti soggetti del territorio a partire dalla regione. L'obiettivo è quello di trasformarlo anche in un attestato simbolico che dia una misura agli studenti, agli insegnanti e alle famiglie sia delle competenze reali acquisite sia della necessità di avere delle competenze minime che possano essere accertate, verificate per poter dire di utilizzare degli strumenti così potenti in maniera sicura e consapevole. Così iniziare anche a digitalizzare i ragazzi e renderli più consapevoli anche per il futuro e anche a far conoscere effettivamente l'uso magari un domani anche a scopo lavorativo. Esatto, esatto. L'iniziativa si inserisce in quello che è un obiettivo a lungo termine che è nostro e della regione di avere una competenza trasversale sul digitale che riguarda sia i rischi naturalmente ma anche tutte le opportunità e le parti positive e che è una condizione necessaria per il futuro dei nostri ragazzi. Un'ultima cosa prima di chiudere il collegamento. Vi siete resi conto fra i ragazzi che ci sono degli effetti negativi, non sono delle vere e proprie emergenze però fanno preoccupare. Assolutamente. Non sono emergenze perché le conosciamo da anni e lo sono dall'altra parte perché portano grandi sofferenze nei ragazzi e ogni anno abbiamo decine di segnalazioni qui sul territorio di grandi problematiche legate agli errori fatti nell'uso di questi dispositivi. Quindi riteniamo che si debba passare dall'emergenza a prenderci responsabilità come adulti, come educatori di trasformare le iniziative che già ci sono in percorsi strutturati, rigorosi, replicabili in tutte le scuole e costruiti col coinvolgimento di insegnanti e genitori. Per il momento solo 10 gli istituti coinvolti però l'idea è di allargare a tutto il territorio regionale. L'idea è proprio sperimentare uno strumento che poi possa essere condiviso, possa essere utilizzato da una rete di soggetti per fare in modo che tutte le scuole possano sfruttare questa sperimentazione. Bene, ringrazio i nostri amici telespettatori, ringrazio Martina per la realizzazione appunto del collegamento, del filmato e restituisco la linea allo studio a te Francesca. Grazie Isabella, ci separiamo per qualche istante di pubblicità. Torniamo tra poco con a voi la linea. Ben ritrovati con a voi la linea. Tra poco andremo nel portenonese ma restiamo ancora a Udine perché vi parliamo del hospice che è stato inaugurato questa mattina all'ospedale Santa Maria della Misericordia. C'era anche il vicepresidente della regione con delega alla salute, Riccardo Riccardi. Oggi inauguriamo il nuovo hospice che è stato trasferito il 18 dicembre dall'ospedale del Gervasutta e ci ha permesso di aumentare il numero di posti letto per questi pazienti che sono pazienti di cure palliative. Che cosa significa cure palliative? Le cure palliative sono le cure destinate ai pazienti terminali quelli con una proniosi in fausa che non sono più suscettibili di cure attive. Noi ci dedichiamo a questi pazienti e la nostra struttura residenziale sanitaria per questi pazienti è l'hospice che viene aumentato quando è stato trasferito da 8 a 12 posti letto. Un hospice è una soluzione, speriamo, definitiva che porta con sé due vantaggi. Il primo, di aumentare il numero di disponibilità di posti letto per le persone che vengono ricoverate e ospitate in questa struttura. Il secondo, di essere comunque all'interno dell'ospedale, del perimetro ospedaliero il che permette anche alle persone, ai medici, agli specialisti e anche agli infermieri che hanno seguito questi pazienti di poter continuare a avere cura di loro. E questo è sicuramente, dal punto di vista del paziente e delle famiglie, una garanzia e un conforto in più. Un reparto che nasce anche con l'aiuto delle associazioni di volontariato e le donazioni private. La prima donazione che potete vedere alle nostre spalle è questa immagine di questo bosco che è donato da una delle sorelle Fattori che è una professionista che ci ha regalato queste immagini che abbiamo potuto trasformare in carte da parati per rendere l'ambiente più confortevole e per fare entrare la natura all'interno del nostro hospice in modo da avvicinare il più possibile una struttura ospedaliera o far diventare una struttura ospedaliera il più possibile come una casa. Le sorelle Fattori, oltre alle immagini che abbiamo nelle stanze di degenza, ci hanno fatto una donazione importantissima di un ecografo che ci permetterà in futuro di approcciare i pazienti anche a domicilio in maniera più intensiva e fare delle manovre invasive che non avremmo potuto fare in assenza dell'ecografo permettendo così la domiciliazione e non l'ospedalizzazione di questi pazienti. Noi abbiamo dato seguito a una richiesta dell'Hospice di portare avanti un progetto per donare questo ecografo di cui hanno necessità. L'attività è stata fatta insieme alla Proloco di Pagnacco che ci ha supportato con l'idea di poter poi proseguire queste attività in futuro e portare avanti un progetto comune per supportare l'Hospice in ogni suo aspetto soprattutto per divulgare la conoscenza dell'esistenza dell'Hospice. L'Hospice è la dimostrazione della differenza di come approcciamo al nostro sistema di salute. Abbiamo ricordato che qui purtroppo c'è il tema di non poter guarire e quindi c'è una sostanziale differenza tra dire che c'è un malato che non può guarire o c'è una persona che non può guarire. Noi abbiamo scelto la seconda strada e su questo ci stiamo impegnando e io di questo voglio ringraziare i professionisti che hanno consentito questo grande risultato e soprattutto lo straordinario mondo del volontariato che con queste donazioni con questo impegno ci fa capire quanto il valore della vita che non riguarda le persone che sono colpite ma soltanto riguarda anche tutte le persone che vivono tutti i loro cari. È un sistema complessivo al quale abbiamo per troppi anni immaginato di poter dare una risposta soltanto con una sala operatoria c'è un prima e c'è un dopo una sala operatoria e probabilmente ci può essere anche un dopo che non riesce a dare delle risposte queste strutture sono strutture che tengono alto il valore della vita e credo che questa sia la missione più importante della quale la politica deve farsi carico. E ora ci spostiamo alla fabbrica modello per l'industria 4.0 di San Vito al Tagliamento dove ad inizio settimana è al lavoro l'EFI il robot che si occupa dell'accoglienza dei visitatori e interagisce con loro un concentrato di tecnologia in 92 cm e siamo andati a conoscere il nuovo arrivo. Buongiorno oggi siamo alla Lean Experience Factory di San Vito al Tagliamento centro di formazione esperienziale per l'industria 4.0 con noi c'è il direttore Giovanni Bernardi perché in questi giorni qui c'è una nuova risorsa che avete portato alla Lean oggi abbiamo andiamo a conoscerla abbiamo una risorsa in più una nuova risorsa l'EFI che è con noi da oggi per fare accoglienza ciao se vuoi rimanere aggiornato sul mondo di Lean Experience Factory lasciami i tuoi dati ecco questo è il buongiorno il benvenuto che dà l'EFI a chi arriva qui alla Lean Experience Factory ai partecipanti ai corsi ai visitatori propone anche dei contenuti multimediali che uno può seguire durante la giornata accompagna i visitatori lungo lo shop floor e le aule di formazione e gli aiuta anche a conoscere l'agenda delle attività un'arma in più per chi in questo posto fa innovazione e che innovazione esatto noi che siamo specializzati nel proporre delle metodologie di Lean e delle tecnologie abilitanti per l'industria 4.0 abbiamo la fortuna di essere seguiti anche da l'EFI e quindi da proporre l'integrazione uomo-macchina qualche caratteristica di questo nuovo lavoratore ecco beh è un lavoratore che si è subito data da fare e infatti l'abbiamo già dovuta mettere in carica perché ha fatto già alcune ore di lavoro in accoglienza è disponibile discreta e soprattutto ci consente di immagazzinare dei dati preziosi abbiamo visto già ci sono tanti corsi qui e tante attività come hanno accolto questo nuovo questo nuovo ingresso oggi abbiamo in particolare una scuola che sta seguendo un percorso di formazione ho visto i ragazzi molto naturalmente disposti a stare con lei anche durante le pause e i coffee break ecco sono anche per lei i primi giorni di lavoro quindi dovrà imparare a fare alcune cose altre ne farà in futuro ci sono degli step successivi quali saranno? ci sono degli step successivi noi l'abbiamo accolta ben volentieri qua oggi riesce appunto a fornirci queste queste conoscenze base per accompagnare i visitatori però poi la porteremo di nuovo in laboratorio perché venga programmata ulteriormente per supportare ancora più efficacemente i partecipanti ai corsi alle attività e ai movimenti dentro lo shop floor nessuna volontà immagino di sostituire l'uomo altri dipendenti però insomma la capacità e il far vedere come l'integrazione tra l'uomo e la macchina sia non sempre ormai il futuro esatto per il momento l'abbiamo inserita appunto con molta discrezione perché riesce ad accompagnarci nelle attività senza sostituire nessuno di noi ma accompagnandoci e lavorando in parallelo e sostituendoci in alcune piccole attività ma mai del tutto un prototipo che si è visto altri in altre location prestigiosi in giro per il mondo e poi uno è proprio qui a San Vito sì a livello internazionale dei cloni sono presenti un po' nei vari continenti però in Europa e in Italia siamo molto orgogliosi di essere tra i primi e allora buon lavoro a Leffi perché ne avrà da fare e insomma la vediamo già a bella carica è il caso di dirlo esatto grazie anche della vostra visita che farà piacere anche a lei grazie per questo collegamento dalla Linex Warrings Factory di San Vito del Tagliamento e tutto e un arrivederci anche da Leffi naturalmente grazie Daniele Michelus noi siamo in chiusura dopo la pubblicità c'è Femini l'informazione torna alle 16.30 con il TG buon pomeriggio grazie a tutti grazie a tutti